Buongiorno a tutti gli amici di YouTube e buon inizio settimana. Oggi parliamo un po' delle quote del posticipo tra Lazio e i Vendors, poi dopo facciamo una resoconto di come sono andate le scommesse del weekend scorso. Personalmente le mie sono andate male, stavo giocando le puntate sulle squadre inglesi, ma lasciamo stare. Chiedo già scusa che non ho messo la giacca e i cravata, sono qui un po' in borghesi, e la prima cosa che ho reso conto è che mi sa che devo mettere un reggiseno la prossima volta che mi vesto così. Ma pazienza, andiamo avanti, la prossima volta è giacca e i cravata, vai. Allora, cominciamo con Lazio e i Vendors, e qui vediamo già un super favorito per la partita di stasera, perché i Vendors è favorito 1-90 con il pareggio a 3-40 e Lazio a 4. E i nostri scommettatori qui sono d'accordo con questo favoritismo perché la maggioranza delle scommesse sono colorati bianco-nero. Ma ci saranno gol stasera? Non siamo convinti perché sulla quotidian da Rova, cioè se saranno due gol o meno o più di due gol, vediamo Ander favorito 1-75 con Ova e 1-90. Ma per quanto riguarda la scommessa del risultato esatto, i nostri scommettatori stanno puntando sui esiti con un po' di gol. Per esempio, la scelta per chi viene a vittoria da Juventus stasera è il 2-1 che è quotato a 8 insieme al 3-1 o a 12. Mentre per chi viene a vittoria a Casalinga, la scelta è il 2-1 per la Lazio, quotato a 14. Mentre per quanto riguarda il risultato, scusate, chi segnara il primo gol, il primo marcatore, vediamo i due giocatori favoriti entrambi quotati a 7, cioè Klos e Vucinic. E i nostri scommettatori qui stanno puntando più sulle Vucinic a 7 invece di Klos a 7 e vedono anche un po' di interesse sulle quote di Marchisio a 12 e Pirlo a 15, quindi due quote alte belle e interessanti. Però ora non parliamo delle quote del futuro, parliamo delle partite del passato. E se vuol dire che questo weekend magari è stato un pareggio tra noi quotisti e voi scommettitori, perché voi avete approfittato dei due favoriti popolari sabato sera, cioè Siena e Fiorentina, mentre siamo riusciti a recuperare un po' di vincità domenica con le partite aeree. Sicuramente voi state criticando le due squadre di P, perché tanti di voi hanno scelto di giocare Parma e Palermo e entrambi non sono riusciti a vincere, quindi come un incontro di pugilato diciamo che questo weekend è stato un bel pareggio tra voi e noi. Concludiamo con i pronostrici del nostro Lagat. Non so se sapevate già, ma il nostro cavallo famoso cieco Lagat fa i pronostrici delle partite di ogni weekend. Questo weekend ha scelto di giocare in Napoli, quindi non è andato bene, ma magari se lui ha giocato il doppio chance X2 di Napoli magari è incassato. Comunque Lagat ha fatto un bel tentativo e continua a fare quei tentativi. Spero che questo cavallo non perde troppi soldi, perché se poi perde tanti soldi, magari deve chiedere al suo allenatore di correre in gare con premi più ricchi. Quindi vedremo magari Lagat all'Act Triumph, non per vincere, ma per avere i soldi per fare più scommessi da noi. Per ora è tutto, ricordatevi sempre di aggiornarvi spesso con le quote SNAI a www.snai.it e ci vediamo domani per le quote di Serie B. E chissà, qualche giacca e cravata che mi sa che è molto meglio che questa maglia. Ciao, a domani! Grazie a tutti!